e venerdì quattordici febbraio buongiorno Friuli e bentrovati in diretta anche questa mattina per il nostro appuntamento con la rassegna stampa prima di andare su i quotidiani di oggi subito uno sguardo al meteo uno sguardo anche al nostro Friuli Venezia Giulia che si sta risvegliando ecco una bella immagine che ci arriva dal litorale ci arriva da Grado dove in questo momento il termometro segna 7 gradi e 4 decimi 7 gradi e 1 a Lignano 8 gradi e 3 a Trieste 3 gradi e 6 a Gorizia 2 gradi e 7 a Udine salendo in montagna il termometro scende invece sotto zero sul Monte Lussari siamo a meno 3 gradi e 8 decimi attorno allo zero invece a Tarvisio meno 4 gradi e 7 a Piancavallo meno 2 gradi e 2 a Sappada il cielo è sereno su buona parte della nostra regione adesso andiamo a vedere le nostre previsioni del tempo per cercare di capire come proseguirà questa giornata per quanto riguarda il tempo ben ritrovati con le previsioni meteo del friuli Venezia Giulia di venerdì 14 febbraio venerdì nella notte è probabile pioggi sparsi su pianura e costa poi miglioramento con cielo sereno poco nuvoloso soffierà vento da nord specie in quota vediamo assieme le temperature sulla costa le minime saranno comprese fra i 4 e i 7 gradi le massime tra 11 e 14 gradi in pianura le minime saranno comprese fra 0 e 3 gradi le massime fra 13 e 16 gradi a 1000 metri 3 gradi a 2000 metri meno 3 gradi grazie per averci seguito e a domani con le previsioni meteo uno sguardo anche alla viabilità anche se non c'è nulla da segnalare in queste prime ore del giorno ecco un'immagine del traffico sulla a4 qui siamo in corrispondenza del bivio a 4 a 23 in direzione milano traffico sostenuto già in queste prime ore del giorno ma scorrevole e allora dopo il meteo e la viabilità possiamo cominciare la nostra carrellata sulle aperture dei quotidiani nazionali c'è la politica in primo piano con le tensioni all'interno della maggioranza per quanto riguarda la giustizia la riforma della prescrizione ieri c'è stato un consiglio dei ministri al quale non hanno partecipato le due esponenti di italia viva ecco il corriere della sera alta tensione tra renzi e conte duro scambio di accuse il premier dice non accetto ricatti e chiama il quirinale aria di crisi nella maggioranza dopo che italia viva ha deciso di disertare il consiglio dei ministri sulla giustizia a centro pagina vediamo l'ambiente con l'allarme lanciato dal presidente francese macron sul ghiacciaio del monte bianco il clima a sfida del secolo ha detto macron di spalla le indagini sul treno deragliato a lodi c'era un difetto nello scambio questa l'ultima ipotesi che è stata formulata durante le indagini chiudiamo il corriere e andiamo su repubblica anche qui c'è la politica in primo piano il titolo maggioranza allo sbando qui viene giù tutto scrive repubblica il premier no ai ricatti sulla prescrizione renzi dice sfiducia per buona fede entro un mese pronto pure al voto consulto tra presidente del consiglio e quirinale zingaretti quindi pd dice matteo si comporta come fece con enrico letta e l'idea di conte sostituire italia viva con un pugno di responsabili lo scontro sulla prescrizione mette dunque a rischio il governo ieri renziani hanno disertato il consiglio dei ministri sulla giustizia renzi ha detto di essere pronto anche al voto e di volere la fiducia per buona fede conte si è consultato con il quirinale e studia di sostituire italia viva con una pattuglia di responsabili non accetto ricatti ha detto conte e poi a centro pagina invece il punto sull'epidemia di coronavirus fine della quarantena per i cittadini cinesi che si trovavano allo spallanzani di roma addio virus la festa dei cinesi in ospedale ecco qua il titolo chiudiamo anche repubblica e andiamo a vedere adesso la prima pagina della stampa conte renzi governo in bilico titola la stampa rabbia del premier fate opposizione maleducata ha detto conte che ha chiamato mattarella resa dei conti così non va parisi dell'agenzia delle lavoro dice grazie al reddito trovati 40 mila posti e gli ultimi dati sul pil italia maglia nera nell'unione europea e l'ultima per crescita in europa nell'ultimo anno la fotonotizia a centro pagina ci porta negli stati uniti con una sfida a colpi di twitter tra trump e bloomberg piccoletto pagliaccio questi gli insulti che i due si sono scambiati su twitter l'ex sindaco di new york e il presidente americano donald trump ma torniamo in italia adesso con il fatto quotidiano apertura su un altro argomento mafia capitale abbiamo scherzato i primi effetti della sentenza della consulta sulla buona fede i pregiudicati escono dalle carceri un po' in tutta italia salvadori fuori sette politici e dirigenti condannati ancora andiamo anche sulla prima pagina del manifesto porto darmi il titolo di apertura oggi presidio di camali sindacati associazioni sotto la prefettura di genova per chiedere lo stop alle navi con a bordo armi per la coalizione che bombarda lo yemen previsto per martedì l'arrivo del cargo saudita a porto mobilitato contro la guerra e poi vediamo anche qui nel taglio alto tra conte e renzi e scontro frontale andiamo anche sulla prima del giornale capolinea conte il titolo di apertura governo alla frutta renzi diserta il consiglio dei ministri ed esplode la crisi il premier attacca fa opposizione maleducata e telefona a mattarella per cercare un'altra maggioranza e il paese affonda crescita peggiore in europa ancora andiamo anche sulla prima pagina di libero la sfida di renzi a conte governo sotto attacco da ogni parte italia viva diserta il consiglio dei ministri il premier fa opposizione ed è maleducata matteo dice se vuole lo aiuta lo aiutiamo a trovare un'altra maggioranza obiettivo fare fuori giuseppe e tanto per cambiare un pm chiede quattro anni di carcere per berlusconi ancora vediamo anche la prima pagina della verità che titola piovono tasse su pc e cellulari colpo di mano di franceschini dopo aver punito chi affitta case ai turisti ora per sostenere il carrozzone siae i cui incassi languono il ministro alza le imposte che aveva inventato nel 2014 e ne mette di nuove stangata anche per smartwatch e braccialetti contapassi chiudiamo anche la verità e vediamo adesso la prima pagina del foglio andiamo a vedere anche qui il titolo che troviamo a centro pagina ci porta a genova dove ieri è stato posizionato il primo troncone del nuovo ponte morandi genova e lo show dell'italia che ce la fa il miracolo del nuovo ponte morandi è lì a mostrare un carattere spesso sottovalutato del nostro paese saper far funzionare le cose come per esempio non trasformando ogni giorno l'immobilismo nell'unica forma di legalità consentita lezioni per il futuro questo il titolo del foglio di oggi andiamo a vedere adesso anche il sole 24 ore l'economia in primo piano l'ultima asta dei btp triennali domanda boom a tassi sotto zero e poi vediamo anche a centro pagina una foto notizia che ci porta a parlare di italexit e deficit elevato inevitabile ridurre il rating a parlare è il capo analista dell'agenzia di rating moodis per l'italia andiamo anche sulla gazzetta dello sport vediamo anche un quotidiano sportivo nazionale in questa prima parte di rassegna stampa c'è la la coppa italia ovviamente in apertura andiamo a vedere allora la prima pagina della gazzetta dello sport eccola qua il pareggio fra milan e juve ieri sera a san siro cr7 rovescia rabbia milan i rossoneri giocano meglio ronaldo fa uno a uno rebic in gol buffon salva la juve nel finale il rigore contestato pioli dice non c'era calabria non poteva sparire sarri replica appena tlinetto e ce n'era un altro niente gara di ritorno per ibraimovic che è stato ammonito e c'è il commento di luigi garlando che chiede sarri la signora dov'è sulla gazzetta dello sport oggi anche una lunga intervista al mister dell'udinese gotti il metodo gotti l'ex vice dice io guardo e imparo tutta l'intervista come sempre nelle pagine interne la vedremo nella seconda parte della nostra rassegna stampa adesso chiudiamo la pagina dedicata ai quotidiani nazionali e spostiamo la nostra attenzione sui quotidiani locali andiamo a vedere le principali notizie di cronaca e non solo sui quotidiani locali cominciamo con il gazzettino vedendo anche la prima pagina dell'edizione nazionale anche qui vediamo in primo piano Renzi Conte eventi di crisi come abbiamo visto anche sugli altri quotidiani nazionali e poi una notizia curiosa a centro pagina vediamo questa foto notizia in collegamento dalla Cina con l'università di Padova dalla quarantena si laurea via Skype bloccata dalla quarantena questa studentessa cinese si è laureata appunto via Skype ma adesso andiamo sul dorso del Friuli andiamo a vedere i titoli di apertura del gazzettino del Friuli seminuda in barella è polemica due casi nel giro di pochi giorni a breve distanza dalla segnalazione dell'odissea del 92enne portato in pronto soccorso il giorno dell'epifania per una caduta e poi lasciato in barella in mutande e canottiera senza una coperta ma solo con un lenzuolo all'attenzione dell'associazione di tutela diritti del malato è arrivato il racconto di un'altra figlia che ha riferito come la madre di 86 anni il 28 gennaio scorso al momento di essere dimessa sarebbe stata riportata a casa praticamente nuda con addosso solo la camicciola slacciata immediati gli audit attivati in ospedale ieri le scuse della direzione intanto la politica si scalda il vice governatore dice ho chiesto e aspetto spiegazioni dettagliate severo indispensabile agire contro chi lo ha permesso il direttore dell'azienda si scusa con la famiglia dell'anziana serracchiani presenta un'altra interrogazione al ministro e poi vediamo a centro pagina il coronavirus e le sue conseguenze anche sulle tante attività presenti in regione a udine c'è il farist film festival che si farà comunque in città e in cina le imprese friulane già al lavoro da lunedì hanno ricominciato a lavorare anche gli stabilimenti che interessano alcune imprese friulane il racconto delle aziende intanto appunto a udine il farist conferma che il festival ci sarà ancora vediamo sempre sulla prima pagina del gazzettino per quanto riguarda la cronaca preso dalla polizia con 4 kg di droga lo stupefacente era destinato a rifornire le piazze dello spaccio in friuli venezia giulia un 29enne di nazionalità afghana che è stato fermato sabato sera e che aveva appunto nel nello zainetto 4 kg di stupefacente 4 kg di hashish e anche 600 euro in contanti e due telefoni cellulari e poi la rapina in via del pozzo in piazzetta del pozzo scusate lo ricorderete la rapina un signore anziano è stato arrestato un 22enne di castelfranco risolto in 24 ore il caso della rapina avvenuta in piazzetta del pozzo domenica sera i carabinieri di udine hanno fermato un 22enne che tra l'altro aveva appena ricevuto il daspo urbano di spalla vediamo il mondo delle imprese sviluppo imprese minoranze all'attacco si parla del disegno di legge sviluppo impresa che è stato approvato ieri dalla seconda commissione del consiglio regionale e che adesso dovrebbe iniziare l'esame dell'aula per il 2020 le risorse a disposizione sono 52 milioni di euro la denuncia dell'opposizione è che si tratti di una norma di manutenzione che si tratti più di una norma di manutenzione che di una vera e propria riforma per l'assenza di punti di rilancio e poi vediamo sempre di spalla la società udinese calcio che entra in confindustria la firma ufficiale ieri nella sede della società alla presenza della presidente e dell'associazione degli industriali Anna Mareschi Danieli e del direttore generale di confindustria e del direttore generale dell'udinese Franco Collavino un'adesione che testimonia ancora una volta il radicamento del territorio sul territorio locale del club e a proposito di udinese andando nel taglio basso vediamo udinese o cacca chiama a raccolta i tifosi per l'ella su un'intervista del gazzettino all'attaccante bianconero che ammette di aver raggiunto l'età della maturità come uomo e come calciatore di trovarsi bene in friuli dopo due dove dopo due stagioni opache al Watford è tornato a godersi il piacere di ricevere offerte allettanti da club italiani e non solo poi approfondiremo anche questa intervista adesso andiamo nel taglio alto del gazzettino e vediamo qualche altra notizia si parla di viabilità perché dopo 13 anni è stato inaugurato il collegamento con la tangenziale Ovest Santo Svaldo dopo 13 anni pronto il collegamento tanto atteso e poi ieri la presentazione dei bandi della fondazione Friuli per l'istruzione si amplia la platea del bando per quanto riguarda gli spettacoli inizia questa sera da Artenia la tournée nei teatri dell'Ert dello spettacolo Hollywood Burger protagonista Enzo Iacchetti e Pino Quartullo attori falliti nella commedia andiamo anche sulle pagine del messaggero veneto messaggero veneto di Udine ecco qua in apertura il fariste si farà ma non ci saranno ospiti dalla Cina gli organizzatori dicono ci spiace molto ma viviamo in un'era ipertecnologica per cui garantiremo la loro presenza con i collegamenti digitali questa è l'apertura del messaggero e poi vediamo nel taglio centrale invece una foto notizia che ci parla del blitz del sindaco nel campo nomadi di via Popone il sindaco ai rom non potete stare qui il sindaco di Udine ha visitato ieri il campo rom di via di via Popone e appunto ha detto non potete stare qui lo sapete abbiamo chiesto una casa Ather ma non c'è stata concessa ha replicato una capofamiglia e questa è la notizia che poi troviamo profondita anche sulle pagine interne andando appunto proprio sulle pagine interne vediamo la prima pagina del fascicolo dedicato a Udine e provincia un caso di una studentessa che si è sentita male dopo aver fumato uno spinello spinello prima di entrare a scuola minorenne soccorso in classe dal 118 lo studente si è ripreso in breve tempo l'esperto dice episodi come questo sono pochi più frequenti gli abusi di alcolici l'episodio è avvenuto mercoledì mattina in un istituto superiore dell'interland udinese e anche qui poi vediamo l'arresto del cittadino afgano trovato con 4 kg di droga sul treno ecco qua anche la foto sempre per quanto riguarda la cronaca fa la cronaca legata al mondo delle scuole fanno danni in palestra denunciati tre minorenni ma ritorniamo adesso sulla prima del messaggero vediamo anche gli altri titoli di spalla come abbiamo visto il fatto di cronaca abbiamo trovato in apertura delle pagine delle pagine locali e poi le la situazione delle impianti degli impianti fognari di udine nel sottosuolo 350 chilometri di tubature il 10 per cento è a rischio di cedimento come avvenuto nei giorni scorsi in via castellana il rapinatore arrestato quello di piazzetta del pozzo come detto aveva appena ricevuto il daspo urbano e poi provoca un incendio devastante pensionato patteggia otto mesi un incendio divampato nel febbraio dello scorso anno nella zona di moggio udinese un signore pensionato che aveva dato fuoco a delle sterpaglie non è però riuscito a controllare il fuoco che si è che ha interessato tanti tanti terreni più di un ettaro di vegetazione è arrivato il patteggiamento per otto mesi nel taglio basso mondiali di biathlon una gara perfetta l'isavitozzi trascina l'italia all'argento mondiale poi approfondiremo anche questa notizia nelle pagine sportive ma adesso andiamo a dare un'occhiata anche alle altre notizie immigrazione il friuli venezia giulia a bruxelles torna a chiedere il blocco della rotta balcanica e poi la questione sanità riforma sanità parla la cis che dice ok alla riforma ma molti nodi restano irrisolti un'altra notizia nel taglio alto padiglione friulano a norcia assolto l'archistar boeri ricorderete il padiglione che è stato realizzato a norcia dopo il terremoto grazie ai fondi a legno anche friulano boeri era stato indagato per abuso edilizio è stato assolto andiamo anche sulle pagine delle piccolo il piccolo di trieste e di gorizia ecco l'apertura svolta sulle rive via i parcheggi altri 500 posti auto al molo quarto entro luglio prima della manifestazione esof 2020 lungomare riservato a pedoni e bici dalla capitaneria all'acquario l'assessore dice che appunto saranno realizzati nuovi stalli in porto vecchio all'inizio a raso ma poi li copriremo queste le ultime novità sulle rive di trieste e vediamo a proposito di rive mare e porto trieste resta primo porto d'italia nel 2019 container record più 9 per cento ed agostino studia il suo futuro il futuro del presidente dell'autorità portuale andiamo anche sulla pagina del piccolo di gorizia andiamo a vedere anche qui le news principali che ci arrivano dal lisontino a zanna e uccide un cagnolino poi aggredisce il proprietario è successo a monfalcone in via romana l'animale un robusto amstaff era sfuggito alla padrona che non gli aveva messo la museruola l'uomo intervenuto a inutile difesa della bestiola a riportato la frattura di una vertebra questo appunto quanto accaduto a monfalcone andiamo a vedere anche la prima pagina dell'edizione del del fascicolo dedicato a gorizia qui si parla degli interventi di bonifica per gli ordigni bellici in ordigni bellici super lavoro per la bonifica in regione uno su tre emerge nel lisontino nel 2019 gli artificieri dell'esercito sono intervenuti 35 volte i residuati possono ancora rappresentare un grave pericolo a un secolo dalla fine della grande guerra rimaniamo sui quotidiani locali andiamo ad approfondire adesso le pagine sportive andiamo a vedere anche qui i titoli di sport sul messaggero veneto vediamo in primo piano la medaglia d'argento ai mondiali di biathlon grazie anche a una super lisa vittozzi ecco qua il titolo vittozzi trascina la staffetta è super argento sono orgogliosa di far parte di un'italia così ha detto la sciatrice ad anterselva lisa si conferma fuori classe assoluta virer la imita offer fenomenale e vindic spara anche per l'oro la staffetta mista appunto ai mondiali di biathlon ad anterselva vediamo anche qui la foto della degli atleti della staffetta con elisa vittorio tozzi anche il presidente del coni malago e poi l'udinese grinta convinzione e cura dei dettagli l'udinese ha le tre chiavi anti verona gotti studia una squadra da battaglia riecco mandragora dal primo minuto e poi è sorpresa zigelar per limitare faraoni questa una ipotesi allo studio e nella pagina successiva c'è anche il tarvisiano maurizio gans che legge il derby di domenica bomber gans alleato di gotti lasagna mi piace da morire ha detto gans che domani sfiderà il tavagnac con il suo milan donne kevin deve stare tranquillo forse però avrebbe bisogno vicino di una punta da 15 gol ha detto gans e ancora per quanto riguarda il pordenone che domani giocherà a benevento tesser rivuole il suo pordenone a benevento il mister dei ramarri riconosce la mancanza di serenità dopo gli ultimi risultati ma in casa della capolista si aspetta la svolta i giallorossi restano l'unica squadra ancora imbattuta tra le mura amiche e andiamo adesso torniamo anzi sulle pagine del gazzettino le pagine sportive del gazzettino del friuli vediamo anche qui visto che stavamo parlando di pordenone ripartiamo proprio dal pordenone nero verdi dalla capolista tesser cambia formazione in campo domani alle 15 contro i giallorossi il tecnico dice qualcuno ha bisogno di rifriatare nella gara con il chievo di domenica 23 alla dacia arena scatterà la promozione porta un amico e poi vediamo nel taglio alto le parole di tesser che ha detto se vogliamo essere quelli della prima parte di campionato dobbiamo immediatamente ritrovare la gioia e la spensieratezza che ci hanno permesso di inannellare i risultati e allora voltiamo pagina adesso e vediamo assieme anche il titolo principale della pagina dedicata all'udinese come avevamo visto sulla prima pagina del dorso del friuli del gazzettino c'è un'intervista a Okaka in apertura Okaka che dice contro il Verona senza invidie e timori l'attaccante analizza il momento dei bianconeri sono normali gli alti e bassi in una squadra in costruzione sono maturo e mi piace aiutare la squadra con Depol rapporto ottimo è un fratellino ha detto Okaka e poi vediamo ancora nel taglio alto le offerte di altri club fanno piacere ma ora penso solo all'udinese e il sostegno dei nostri tifosi in questo momento è prezioso queste le parole di Okaka e poi vediamo anche Gotti pronto a cambiare l'undici titolare pronti al rientro Becao Ziegler e Mandragora. Chiudiamo questa pagina del gazzettino e chiudiamo anche questa prima parte della nostra rassegna stampa di oggi adesso come sempre la linea passa alla regia per la consueta programmazione del mattino noi ci rivediamo alle 8 con tutti gli aggiornamenti sul meteo la viabilità la cronaca torneremo anche sui quotidiani di oggi e poi ovviamente tutti gli aggiornamenti anche dai principali siti di comunicazione nazionali e tutto questo dalle 8 in poi ci vediamo più tardi Grazie a tutti